Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi voglio farvi i preferiti, visto che abbiamo appena concluso il 2020, finalmente è finito Voglio farvi il video sui miei preferiti sia make up, beauty che fashion Ho preparato qui un sacco di cosine da farvi vedere e vado un po' a random ragazzi, un po' a caso Allora, primo prodotto di cui non vi ho mai parlato ma è stato un prodotto che mi ha salvata E' questo di Dior, è della linea Hydrolife, si chiama Time to Glow, è una polvere esfoliante ultra sottile Ma che sfoglia molto molto bene il viso, è un po' difficile da utilizzare perché bisogna prima bagnare il viso e poi andare a prelevare questa polvere Vi faccio vedere, appunto, sembra un po' tipo talco, cioè proprio polvere, però ecco, ne ho uscita un po' così potete vederla Ed è, appunto, ci sono questi micro micro, è proprio una polvere molto molto sottile Però ha un ottimo effetto scrub e esfoliante ovviamente meccanico perché appunto ci sono questi piccoli granellini Però è molto molto delicata, ve lo dico io che ho la pelle, lo sapete, è super sensibile Quindi ero un po' preoccupata quando ho iniziato, quando l'ho provato Però effettivamente non mi crea nessun tipo di, neanche di rossore Quindi ottimo anche per le peli sensibili In più quando mi esce qualche brufoletto, eccetera, questa mi aiuta tantissimo a guarirli prima Perché quando ho imperfezioni, eccetera, vado sempre a fare un po' di esfoliante Così vado ad esfoliare gli strati, non lo so, e ho la sensazione che i brufoli se ne vadano prima Ma una cosa su cui è imbattibile sono i punti neri, ragazzi Con l'utilizzo, ovviamente non una volta, ma nel tempo, i punti neri, specialmente quelli sul naso, scompaiono A proposito di punti neri, un altro prodotto da farvi vedere Che è questo sapone di Lush Non mi ricordo assolutamente il nome, ma come al solito ve lo scriverò Ed è una saponetta, non è per niente bello da vedere, mi rendo conto in questo momento Però sta a significare che l'ho utilizzato veramente tanto E questa è una saponetta che è, secondo me, indicata Io la consiglio soltanto a chi ha la pelle mista come la mia oppure grassa Se avete la pelle normale oppure secca, piuttosto eviterei Perché è molto, molto potente come prodotto Cioè ti asciuga la pelle e la purifica in profondità Una cosa che faccio quando ho la pelle Perché di solito in inverno mi tira sulle guance Il resto della pelle è lucida Cioè il resto del viso e la pelle è lucida Però le guance sono secche Quindi vado ad utilizzarlo solo sulla zona T Per andare, uno, a togliere l'effetto lucido E due, a purificare E anche questo, con... Allora, questo lo uso non ogni giorno, ma ogni secondo giorno Questo lo uso una volta a settimana E la combinazione di questi due contro i punti neri sono pazzeschi Altro prodotto che ho amato nel 2020 È questa maschera di Sephora Ed è la maschera all'acido glicolico Si chiama appunto Overnight Glow Mask Ho scoperto l'acido glicolico, penso, nel 2019 E per me è stata una rivoluzione Perché l'acido glicolico ha un potere esfoliante E per quanto mi riguarda aiuta anche a combattere i brufoli Cioè, quando... Allora, queste le utilizzo ogni... Una sera sì, una sera no Perché, non lo so, forse è un pochino troppo forte Da essere utilizzato ogni sera Questa è una maschera che va... È una maschera notte, quindi la applico la sera Anche in modo abbastanza abbondante Un pochino più di quanto andrei a mettere se fosse una crema E poi semplicemente vado a dormire Ragazzi, è vero, ti dà un effetto glowy E non è lucido nel senso di pelle mista, lucida, brutta Ma ti dà un effetto glowy, proprio un aspetto sano Una pelle più... sì, più luminosa E al contempo mi aiuta ad asciugare le imperfezioni Che è veramente un binomio fantastico Quindi, appunto, anche questa super 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 consigliata Poi, sempre per quanto riguarda la skin care Altro prodotto che ho amato nel 2020 Sono questi patch di Patchology Questi patch per il contorno occhi Sono super super idratanti E sono super... Appunto, non sono solo idratanti Sono nutrienti Nei prodotti di solito preferisco quelli che sono nutrienti E non soltanto idratanti Specialmente per quanto riguarda il contorno occhi Perché le prime rughette si formano tutte sul contorno occhi Quindi è molto molto importante Se vogliamo combatterle Andare a nutrire sempre tantissimo questa zona Quindi, quando sono a casa Rimuovo subito il trucco Cioè, nel 2020 in realtà Siamo stati tutti solo a casa Quindi, quando non sono truccata E sono a casa Puff! Li applico sul contorno occhi E nel frattempo, appunto, va a nutrire questa zona Il bello dei prodotti sul contorno occhi Che... cioè Quando i prodotti sul contorno occhi funzionano Non avete la pelle che rimane morbida Solo dopo che li avete utilizzati Ma rimane morbida poi Nelle ore e nel tempo E questi sono favolosi E un altro prodotto Che volevo assolutamente menzionare Con i miei patch È questo di Lab Care Cosmetics Questi sono i patch E il trattamento Sono i patch liquidi Se mi seguite su Instagram Ve ne parlo spesso Li conoscete Ed è... sono dei patch Però in forma liquida Quindi è un prodotto La consistenza è come quella di una crema gel E vanno, appunto, il prodotto va applicato Nello stesso identico punto Dove andiamo ad applicare i patch normalmente E anche questi sono super super nutrienti Mi piacciono perché Quando li applico Poi magari mi trucco E passa tutta la giornata La sera ho ancora la pelle molto più morbida Rispetto a se non li avessi usati la mattina Quindi sono veramente Entrambi sono degli ottimi ottimi prodotti Per il contorno occhi E lo sapete io sono fissata con la zona del contorno occhi Da sempre ho iniziato ad applicare tipo la crema Il contorno occhi lo sapete ormai tipo a 12 anni Non ho mai smesso Passiamo adesso al make up Allora, primo prodotto che devo assolutamente menzionare ragazzi E lui è il mio smalto semipermanente In quest'anno mi sono fatta il semipermanente Sempre, sempre, sempre da sola nel 2020 E lui è stato il mio preferito in assoluto È OPI e si chiama Bubble Bath Ed è questo nude che mi vedete indossare praticamente sempre Adesso ho quattro passate Per avere una coprenza bella, bella piena In realtà se ne metto solo due A volte ne metto due, a volte quattro Dipende appunto se voglio una coprenza bella forte Come in questo caso Oppure se, quando magari ho le unghie un pochino più lunghe Applico solo due passate Ed è un pochino più traslucido E un pochino più, ancora più naturale Quindi secondo me il colore è nude perfetto Perché i nude su di me che ho un sottotono di pelle rosato Sono sempre meglio se hanno appunto un sottotono rosato Piuttosto che un sottotono giallo E quindi questo per me è il nude perfetto Il semipermanente perfetto E ne ho comprati tre Ne ho già finita una boccetta Nel 2020 l'ho finito Questa è la seconda boccetta E ne ho un'altra come backup Quindi mi piace veramente tanto questo colore Probabilmente avrò rossetto sui denti Durante tutto il video ragazzi Ma l'Invisalign è una specie di Non lo so, attrae il rossetto Mi si appiccica Quindi se lo notate Fate finta che non ci sia Ok? Ok Poi Altro prodotto che devo assolutamente menzionare E lui è il fondotinta di Diego Dalla Palma Ho provato migliaia di fondotinta Davvero tanti Sulla mia pelle quello che funziona meglio E lui È il nudissimo di Diego Dalla Palma Colorazione Stavolta non sbaglio che ho preso quello troppo scuro La 242N È la mia colorazione E per me è fantastico questo fondotinta La coprenza è modulabile Ne metto un pochino Cioè carico un pochino di più Se voglio una coprenza un pochino più forte Se invece voglio una coprenza super leggera Appunto Posso averle entrambe Il colore è perfetto per me Ma la durata ragazzi Io la sera ho ancora il trucco perfetto E non capita con tutti i fondotinta Anche quando vado ad usare il primer migliore del mondo Ci sono fondotinta che comunque A metà fine giornata Cioè inizialmente ti sembrano wow Pazzeschi Poi metà fine giornata In questo video Perché è veramente il mio fondotinta E ne ho due di backup Di questo E lo ordino Non me lo faccio inviare Tanto per essere Non è un video sponsorizzato Questo è proprio Il mio fondotinta Lui Poi Allora Altro prodotto Che volevo menzionare Per quanto riguarda le labbra Lo sapete Io sono Per quanto riguarda il make up Il mio prodotto preferito E sicuramente il rossetto Possibilmente liquidi e opachi Ma l'importante è che siano opachi Ed ho diversi È stato difficile scegliere Perché prima volevo parlarvi di 500 rossetti Poi mi sono detta No Nicola Ok Scegli quelli che hai indossato di più Che ti sono piaciuti di più E quindi ho ristretto la scelta a questi tre Il primo è di me Che secondo me già sapete Di quale rossetto si tratta Se mi seguite da un po' assiduamente È il Love You Back Di MAC Questo l'ho scoperto in realtà nel 2019 Se non sbaglio Però nel 2020 L'ho usato come se non ci fosse un domani Questo è il secondo stick Sì anche a casa mi trucco tanto evidentemente Questo è il secondo stick Che io uso di questo rossetto E ne ho già un altro pronto Perché in Italia era sold out Pensavo fosse edizione limitata Non ho ancora ben capito Ma qui in Olanda Penso si trovi ancora Perché è il mio nude perfetto Questo è parecchio chiaro È il Love You Back Ve lo faccio anche vedere swatchato Calcolate che io appunto sono chiarissima Quindi è parecchio parecchio chiaro come colore Però quando magari ho gli occhi un pochino più carichi È fantastico come nude Anche questo potete vedere che è un sottotono rosato Sempre per il discorso che il mio sottotono di pelle È un sottotono di pelle freddo Un sottotono rosato E quindi mi stanno bene Anche per quanto riguarda le labbra Nude che però appunto Virano un pochino Ha un sottotono un pochino più freddo Ma non necessariamente Solo quando ho trucchi sugli occhi Molto Molto accesi Insomma Ho comunque uno smokey eye Mi piace indossarlo Anche se sugli occhi Ho solo un po' di mascara Questo è stato una mega scoperta I love you back Poi altri due Voglio farvi vedere Il primo è questo È di Banana Beauty Lo sapete Banana Beauty è un brand con cui lavoro Ma come vi dico spesso Io decido con quali brand voglio lavorare In base a quanto mi piacciono Ok Quindi testo Provo E poi decido Ricevo tante richieste dai brand Per collaborare con loro Ma non sempre accetto Perché a volte sono prodotti che effettivamente non mi piacciono E io non ve li consiglierei È per questo che inserisco questo rossetto Perché l'ho adorato E si chiama Aquaholic Ne ho due di questi ragazzi E spero vivamente di non finirli Perché è pazzesco Anche questo È un nude rosato Più che un nude È un rosa molto chiaro E anche questo ve lo swatcho Eccolo qua È un rosa molto molto chiaro Ma un pochino più viola Se vogliamo Rispetto al love you back Sì le tonalità mi rendo conto In questo momento Che sono parecchio simili Ed è Mi chiedete Sempre Sempre Quale rossetto indosso Quando ho questo Ragazzi E se lo vedete Appunto Riconoscetelo È lui È l'Aquaholic Di Banana Beauty E poi Altro rossetto Che Non lo so Inizialmente Quando l'ho provato Non mi sembrava niente di che Però poi Mi sono resa conto Che nel 2020 Volevo tenerlo Sempre a portata di mano Perché quando Non sapevo Che rossetto Abbinare ai trucchi Andavo sempre su questo Sarà che è un nude Allora questo è di Jeffree Star Cosmetics E si chiama È un Velour Liquid Lipstick E si chiama Can't Relate Anche di questo Anche di questo vi ho parlato spesso Ed è un nude Questo è un po' più Color carne Come tonalità E non penso Che ce ne siano anche più Tantissimo Onestamente In questo In questo In questa confezione Ed è appunto Più nude Rispetto agli altri due Che vi erano un pochino Più sul rosa Sì Mi rendo conto Che più o meno I miei gusti Somma si capiscono Perché non è che siano Tanto diversi L'uno dall'altro In realtà Però Appunto Questo è un ottimo rossetto E anche la durata Di tutti e tre i rossetti Che vi ho fatto vedere È ottima Sono pazzeschi In particolare Forse il Love You Back Di MAC Essendo stick È un pochino Meno resistente Ma questi due Sono come delle tinte Non Cioè sono completamente No transfer Mascherina A prova di mascherina Poi per quanto riguarda Le matite occhi Di solito non inserisco Matite occhi Dei preferiti Perché sono Non lo so Un prodotto abbastanza Insomma se ne trovano Tante di buone Però questa Volevo inserirla ragazzi Questa è la matita Di Victoria Beckham Si chiama Setting Cajal Liner Ragazzi Questa è la matita Più scrivente Più morbida Non mi dà fastidio Quando la applico Non mi fa lacrimare gli occhi È veramente È fantastica È talmente morbida Che quando la applico Non sento neanche Il tratto Eppure È super Iper Pigmentata È nerissima È veramente Una delle matite Migliori Che io abbia mai provato E ne ho provate Tante Quindi questa Veramente Se siete alla ricerca Di una matita Scrivente Nera Facile da applicare Che non Abbia bisogno Di Tante ripassate Perché alcune matite Specialmente Nella rima interna Vanno ripassate Più volte Con questa Assolutamente no Questa è appunto Una delle migliori Mai viste E poi arriviamo Alle palettes Ne avevo diverse Che volevo menzionarvi E anche qui Sono riuscita A restringere Un po' E quindi Vi menzionerò tre La prima E anche questa Non penso di avervi Mai parlato Di questa palette Ma è fantastica È di Anastasia Beverly Hills E della Soft Glam I colori Secondo me Sono perfetti Per Cioè Per qualsiasi occasione Si può creare Un trucco più naturale Si può creare Uno smokey eye Di media intensità Si può creare Un trucco Molto molto Vistoso Uno smoke Invece Molto Più dark Non ci sono Colori Più pazzi Quindi è tutta Sui toni neutri Ma i toni neutri Sono quelli Che io uso Nel Diciamo 80% Delle mie giornate Specialmente Nel 2020 Che appunto Non siamo usciti Non abbiamo fatto nulla Però Quando mi truccavo Molto spesso Appunto Creando un trucco Naturale Sui toni Appunto Del marroncino Come piace a me Questa è Un'ottima Ottima palette E credo sia anche Ottima Sia per chi Ha gli occhi chiari Che per chi ha gli occhi scuri Per un sottotono freddo Per un sottotono caldo E E la scrivenza Di questi ombretti Ragazzi È fenomenale E poi Altra palette Che volevo menzionare Ragazzi È questa È la palette Di Chiara Ferragni Lo sapete Anche quella Rosa che era uscita L'anno Quando era nel 2019 Era uscita Mi sa Sì Questa 2020 L'altra 2019 Anche quella L'ho adorata L'avevo usata Tantissimo Tanto da finire Gli ombretti L'illuminante Nelle cialde Rendiamoci conto E anche questa Devo dire Mi è piaciuta Tanto La criticano Molto Ma personalmente La trovo Un'ottima Ottima palette Hanno cercato Di farci stare All'interno Quanti più Prodotti Possibili Perché Effettivamente Ci sono blush Ci sono illuminanti C'è la terra E gli ombretti Sono anche Molto particolari Mi piace Che non abbiano puntato Invece in questo caso Sui soliti Rosa E sui begiolini Eccetera Ma sono andati Proprio a creare Dei colori Un pochino Più particolari E in particolare Dei più particolari In particolare Mi piace Questo blu Glitterato Vi ho fatto anche Il tutorial Con questa palette E continuo Ad adorarla E mi piace Tantissimo Anche l'illuminante E questi Che sono Secondo me Anche illuminanti Mi sa che loro Li descrivono Più come Come blush Non ne sono sicura Però sono Veramente Fantastici Super pigmentati Questi colori Li adoro Li adoro Anche i marroncini Insomma È una palette Secondo me Ottima L'unica cosa Avete visto Non ho utilizzato I pennellini Perché quelli Delle palette Sono sempre Pessimi Però La palette In sé I colori Sono stupendi E visto che Anche l'occhio Vuole la sua parte Vogliamo menzionare Il packaging Tutto azzurro Blu Glitterato È fantastico Secondo me Quindi Anche questa Mi è piaciuta Tantissimo E poi Un'altra palette Che ho usato Tantissimo Ma non è uscita Nel 2020 Però l'ho usata Tanto nel 2020 È lei La Naked Honey Penso che questa sia Non necessariamente Ovviamente Però penso che questa sia Particolarmente indicata Per chi ha gli occhi chiari Perché ha Dei Ha questi marroncini Dorati Bronzati Con sottotono caldo Che fanno Risaltare Tantissimo Gli occhi Appunto Dai sottotoni Freddi Perché essendo Appunto I due Opposti Quando applichiamo Un ombretto Con sottotono caldo Molto caldo Su un occhio Invece magari Azzurro Blu o verde Che ha dei sottotoni Freddi Appunto Il colore viene risaltato Tantissimo Non necessariamente Perché insomma Gli ombretti Si possono indossare Su tutte le colorazioni D'occhi E il make up È bello Perché Non esistono regole E si può utilizzare Qualsiasi cosa A noi piace Questa è la cosa importante Però appunto Se posso darvi un consiglio Se avete gli occhi chiari Questa è un'ottima Ottima scelta E la trovo Fantastica Anche in estate Con l'abbronzatura Ok adesso Non ci pensiamo neanche Però è fantastica Anche in estate Con l'abbronzatura Se non siete Fantasmine Come me È fantastica sempre Ok per quanto Mi riguarda Più in estate Poi visto che Il 2020 È stato l'anno Dei pigiami Delle tute E del Io resto a casa Volevo farvi vedere Allora È sporca Nel senso Che l'ho presa Dalla lavatrice Perché stavo Per metterla a lavare Quindi se ha delle macchie Eccetera Non fateci caso Ma volevo farvela vedere È questa Tutta Di Un brand Che si chiama Pangaia Presa col cappuccio Ma c'è anche senza E La riconoscete Da Visco farvela vedere La riconoscete Da queste Scritte Che Ci sono Sia Sulla Felpa Che sui pantaloni Allora Questa Questa tuta Ragazzi Io l'ho scoperta Perché l'ho vista Indossata Praticamente a un sacco Di influencer E mi piaceva il fatto Che avesse questi colori Così carini Alcune l'avevano rosa Pastello E mi sono tanto pentita Di non averla presa rosa Perché avevo i capelli rosa In quel periodo Quindi mi son detta No ok Intanto la prendo azzurra Perché volevo prenderla Sia azzurra Che rosa Questo baby blue Bellissimo Questo azzurro Cielo chiaro Poi mi son detta Ok Intanto la prendo azzurra E poi quando non avrò più i capelli rosa La prenderò anche rosa Confetto Rosa pastello chiaro Adesso però Non esiste più Rosa confetto Rosa pastello chiaro Che i miei capelli sono tornati al biondo Però non esiste più E quindi Ne ho preso un'altra In realtà Ve la farò vedere La vedrete prossimamente Perché è ancora impacchettata Ma tanto mi è piaciuta In realtà Quando l'ho messa in asciugatrice Si è un po' accorciata Ma poi è bastato Indossarla un paio di volte Ed è ritornata In realtà Alla sua struttura Perché mi piace tanto Questo Ve la rifaccio vedere Non so perché Perché mi piace tanto Questa Questa tuta Allora Numero uno È fatta con In 100% cotone Riciclato Quindi Ottima per l'ambiente Ogni Se non sbaglio Ogni tuta Ogni prodotto Che vendono O comunque Ogni tot Spesi Piantano Un albero Quindi è anche Appunto Un Un ottimo brand Che si prende cura Dell'ambiente Quindi sono contenta Non lo so Di dare i miei soldi Ed acquistare Se qualcuno appunto Pensa anche all'ambiente Quindi è un'ottima cosa È un plus È un incentivo 10 incentivi in più Per acquistare da loro Ma è anche Estremamente Estremamente morbida Estremamente Estremamente comoda Ho un sacco di tutte Ma quella che voglio Indossare sempre È lei E hanno Sia la versione Estiva Che leggera Che la versione Invernale Che è felpata All'interno E ragazzi Lo sapete Io abito nel nord Europa Abito in Olanda E questa È fantastica È super super calda Morbida Super confortevole Io ho preso Anche nella Nella nuova versione Ho preso Quella con il cappuccio Però c'è anche La versione senza cappuccio E la adoro Ho vissuto praticamente In questa tuta Nel 2020 Quindi Super consigliata E poi Visto che La mia più grande passione Per quanto riguarda il fashion E sono sicuramente Le borse Vorrei farvi vedere Le borse Che più Ho amato E quelle nuove Insomma Che ho preso nel 2020 E che più Ho amato E sono Allora La prima È lei Questa scianellina Non sono purtroppo In estate Sì In estate Ho recuperato Di brutto Nell'uso Delle borse Però Sono riuscita A portarle Un pochino Di più In estate Appunto Perché eravamo Tutti un pochino Più liberi Però È intanto Questa Questo è stato Un ottimo Acquisto Io di solito Vado più Sul modello Classico Questa Non mi ricordo Assolutamente Il nome Del modello Ragazzi Ma è appunto Una chanelli Questo color Tiffany Meraviglioso E c'è C'è la scritta Chanel qui Su questo Dettaglio Sotto il manico E si può indossare Anche a tracolla Ed è appunto Non mi ricordo Il nome del modello Ma è molto spaziosa E nonostante Io di solito Vada un pochino Di più Sui modelli Classici Questa forma Mi è piaciuta Subito tantissimo E sapete che la fanno Anche in rosa Infatti ci sto facendo Un pensierino Però magari Non vorrei prenderla Proprio uguale Però in rosa È stupendo E all'interno Appunto Ci sta anche parecchia roba Non è per niente Piccolina Ci sono Diversi Scomparti Tre Con Una cerniera Da un lato E poi con Lo spazio Che mi avete detto Che è per il rossetto Giusto Questo piccolino E altri Taschini Altre taschine Un pochino più Piccoline Appunto All'interno Ho adorato Questa borsa L'ho indossata Tanto Vi è piaciuta Tanto E quindi Voglio inserirla E poi Altro acquisto Del 2020 E questa Vi ha fatto Impazzire Ed è Una delle mie Bolse preferite Tra tutte Quelle che ho Edi Chanel Ne ho 20 21 Qualcosina in più Comunque Questa è la mia Preferita Tra tutte E lei È la classica Che ho preso Quando è che l'ho presa Ragazzi Aiutatemi Voi lo sapete sicuramente Comunque nel 2020 Ed è appunto Questa l'hanno soprannominata La mermaid bag Perché ha Veramente i colori Cioè che ricordano Non lo so Ricordano veramente Le sirene Tutta metallizzata Però Ha questi colori Stupendi La mia è molto Molto rosa Ho fatto i salti mortali Per trovarla Avevo trovato Appunto anche Il modello più piccolino Che però Non mi ispiravo Perché ogni borsa Di queste È diversa Rispetto agli altri Modelli Cioè Non esiste Una di Questa Allora Ricapitolo Non esiste Una borsa Uguale all'altra Di questo modello Perché hanno Tutte Una combinazione Di colori Diversa Rispetto alle altre Quindi Ognuna è unica Nel suo genere E quella Che avevo trovato L'altro modello Che era un pochino Più piccolino Era tanto arancione E io ne cercavo Una ovviamente Prettamente rosa E l'ho trovata Questa è Completamente rosa Su tutti i lati La taschina dietro È di questo Bellissimo Azzurro Che si sfuma Un po' con il viola E un pochino Con il dorato Qui E anche davanti È molto Molto rosa Un pochino Viola Un pochino Turchese E all'interno Invece sono tutte Appunto Anche qui È molto Molto rosa E l'interno Invece All'interno Sono tutte Tutte Dorate L'ultima volta Che l'ho indossata Penso che Fosse al museo Di Van Gogh Perché avevo preso Anche la mascherina Di Van Gogh Fantastica Comunque Sì Questa è In assoluto Se non la mia preferita Una delle mie borse preferite Quindi è stato un ottimo acquisto L'ho indossata tanto E non vedo l'ora Di indossarla Ancora Di poter uscire Ancora di più E di sfoggiarla Perché è bellissima Quindi questo è quanto Per i preferiti di oggi Non sono andata Proprio per categorie Perché ho voluto Semplicemente inserire I prodotti Che mi sono sentita Di consigliarvi Magari quelli Di cui non vi avevo già parlato Magari di alcuni Sì Però volevo Confermare Il mio amore Per questi prodotti E consigliarveli Quindi questo è quanto Per oggi Mia family Spero che vi sia piaciuto Il video Nei commenti Scrivetemi Se avete provato qualcuno Di questi prodotti Che vi ho fatto vedere Se vi sono piaciuti Oppure quali sono stati I vostri preferiti Del 2020 Che vi sentite Di consigliare a me E agli altri Insomma nei commenti Quindi bacio Enorme mia family Vi abbraccio Come sempre Fortissimissimissimo Venite qua Fortissimissimissimo E noi ci vediamo domani Sempre puntuali 17.30 Ciao 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 Ciao